Per regalare un sorriso ai bambini che devono passare le feste in ospedale. Un sorriso che si accende quando arriva un regalo inaspettato da scartare. E per vedere la gioia negli occhi dei piccoli ricoverati del Salesi, Francesca si è vestita da elfo di Babbo Natale, è salita su un taxi e da Fabriano è arrivata a destinazione. Dentro il bagaglio numerosi sacchi di juta con pacchi dedicati a bambini e ragazzi da 0 a 15 anni di età. Una tradizione che è nata per mantenere una promessa e che si rinnova dal 2019. Perché fai questo? Diro gli ospedali, problemi miei di salute, so che vuol dire stare in ospedale, allora mi piace regalare un sorriso a chi sta male. Veramente un sorriso speciale, a ogni bambino se lo meritano. I regali sono il frutto dei suoi risparmi annuali e della sensibilità di molte persone della sua città. Ed è per questo che lei ama definire il suo progetto la Maratona Rilento. Ogni anno evito di fare regali inutili a persone che non vedo durante l'anno, allora evito di fare regali per conservare i soldi per poter comprare i regali ai bambini del Salesi. Insieme al pacco consegna anche il sasso del sorriso che lei stessa colora e decora. A lei sono grati in tanti, a partire da coloro che ogni giorno cercano di alleggerire la giornata dei piccoli e grandi eroi del Salesi. Grazie a Francesca che ci porta una sorpresa, perché i bambini non lo sanno, quindi le sorprese sono sempre ben accette, quindi poi Natale, i regali è sempre bello. Un ringraziamento speciale a Francesca Garaffa, che ha scelto di sostenere la fondazione dell'ospedale Salesi Ollus, rendendo il Natale ancora più magico. I bambini ringraziano, la fondazione ringrazia, e sicuramente all'interno di questi regali troveranno, oltre la bellezza e lo stupore del regalo, troveranno un pezzo del suo cuore. Grazie!